Allora, ben ritrovati cari telespettatori, siamo qui con il nostro ospite Stefano Marcheggiani che è l'assessore alla cultura e al turismo del Comune di Fano. Buonasera, assessore. Buonasera. Allora, questa sera parliamo di nuovo di Orizzonte Fano. Orizzonte Fano, lo sapete tutti, ormai è quell'iniziativa importantissima che si terrà poi il 4 marzo prossimo e questi appuntamenti che noi facciamo servono proprio per, come dire, preparare un po' il terreno, va bene, per questo grande appuntamento al quale siete tutti invitati a partecipare e a contribuire soprattutto con le vostre idee. Allora, con l'assessore Marcheggiani stasera parliamo. Chiaramente di turismo. E allora, la prima domanda che le voglio fare al sessore Marcheggiani è questa. Come si inserisce il ciclo di incontri che voi avete organizzato, siamo ormai al terzo che si terrà a metà di marzo, il primo era sull'identità, il secondo sulle strutture ricettive di Fano, ecco il terzo ci sarà fra qualche settimana. Come si inserisce all'interno di questo piano strategico che si sta predisponendo? Direi che il lavoro già fatto costituisce una serie di dati molto importanti per il piano strategico. La finalità d'altronde era proprio quello di organizzare un po' scientificamente con degli esperti, anche da uno sguardo esterno rispetto alle nostre sensazioni locali, dei contributi di analisi ma anche di progettualità appunto per fare un piano strategico del turismo partecipato, perché ha partecipato tanta gente a questi incontri, l'ultimo sarà appunto sulle manifestazioni e gli eventi e questa serie di dati unitamente a incontri che io ho fatto personalmente con i comitati del territorio, quindi Torrette, Ponte Sasso, Lido, Sassonia, adesso ci sarà anche il centro storico, sarà una serie di cose registrate, di bisogni, necessità, aspettative, che io girerò ovviamente a coloro che stanno redigendo il piano strategico complessivo della città. Quindi sono già dei capitoli abbastanza folti di contenuti. Ecco, da questo primo incontro è emerso che Fano probabilmente ancora deve trovare una sua identità, no? Sì, siamo una città molto ricca di cose e allora come ci ricordava Jark, che abbiamo consultato questo destination manager, lui dice avete bisogno di un'attrattiva faro a cui ancorare le tante cose che esprimete. Io credo, adesso poi ci sarà un momento di sintesi di tutte queste cose, evidentemente quello che ci interessa poi è operare, agire, credo che la nostra offerta è quella che vada rivolta al turismo un po' tradizionale nostro, col turismo della famiglia, città delle bambine e dei bambini, quindi la qualità dell'ambiente, la bandiera blu, la bandiera verde per i bambini, la bandiera arancione del nostro territorio, perché noi siamo al di là dei titoli oggettivamente qualificati a dare una risposta seria in materia di qualità delle acque e dell'area dell'ambiente. E questo è un traino sicuramente interessante per le famiglie che vogliono che i figli siano sicuri, quando sono sicuri sia in acqua che fuori, sono sicuri anche i genitori. Poi chiaramente c'è la bellezza del paesaggio, l'archeologia, fanno una città d'arte, e io dico fanno una città anche della creatività, perché noi abbiamo il carnevale, abbiamo la musica, il festival jazz, abbiamo la creatività di chi legge, di chi scrive, tante associazioni, e questa non è una cosa nuova, è una cosa che è radicata nella storia. E quindi attraverso il grande veicolo del carnevale far comprendere anche che questa è una città che può dire la sua in un campo affascinante, molto italiano, che è quello della creatività. I dati sull'afflusso comunque sono dati positivi? I dati sono stati straordinariamente positivi, chiaro che in questo gioca anche la crisi del Medio Oriente, evidentemente non ci illudiamo che sia tutto merito. Sono stati fatti degli sforzi però significativi dall'amministrazione e anche dalla regione Marche, in questo senso, che stanno dando dei frutti, perché i dati sono sostanzialmente 42.000 presenze in più, che significa pernottamenti in più nel 2016 rispetto al 2015, quindi abbiamo delle percentuali del più 6,80, percentuali del più 8,36 rispetto agli arrivi, che sono un'altra cosa dalle presenze, quindi veramente, ed è su questi risultati che dobbiamo ancorare la nostra azione programmatica. Quali sono le, qual è la fotografia delle strutture ricettive fanesi, visto che è stato il tema del secondo incontro? Il tema del secondo incontro, ovviamente lo sappiamo, abbiamo una fragilità di strutture ricettive, soprattutto nell'alberghiero, che in realtà è un settore, un po' in tutta Italia, che sta entrando un po' in crisi a fronte, per esempio, dell'esplosione del bed and breakfast, per esempio, che è una tipologia nuova. Il turista privilegia anche l'esperienza, andare in una casa, vivere in un borgo di pescatori, vivere in un maso chiuso, in generale, perché è sempre più esperienziale il turismo. È vero che i nostri albergatori hanno fatto sforzi, notevoli, negli ultimi anni, quindi abbiamo chiesto a Castellini, che è stato il protagonista della seconda puntata, di darci una ricetta di intervento fattibile per la realtà nostra. Noi abbiamo quattro strutture a quattro stelle, non ci sono categorie lusso, anche perché Fano è una città molto gradevole, piacevole, però il contest non è proprio quello del lusso, ne siamo a San Morizzo in situazioni, insomma, beh, è una città che però viene scelta anche per questa sua fascia media, no? Quindi le strutture possono adeguare con migliorie sopportabili economicamente, con interventi che Castellini intelligentemente ha messo a disposizione. Quindi si possono fare cose molto gradevoli. Abbiamo strutture in gran parte a tre, due stelle. Siamo forti però nei campeggi e nei camper, per questo vedremo che ci sono delle criticità da risolvere. Quali sono queste criticità da risolvere? A medio e lungo termine? A medio e lungo termine. Uno, io credo che per equità vada fatto un ragionamento di sensibilizzazione con quanti, insomma, esercitano questo nuovo lavoro un po' in clandestinità. Sono tante le strutture che si muovono un po' così, nella clandestinità. E poi, insomma, tutti contribuiscono con la tassa di soggiorno che deve essere riversata per migliorare la ricettività, quindi marciapiedi, panchine, lampioni, iniziative. Credo che sia giusto sensibilizzare, io dico. Ma l'altra cosa, evidentemente, ecco, stiamo lavorando noi per infrastrutture che aiutano l'interscambio parcheggio-spiaggia, quindi sottopassi, parcheggi e anche, ovviamente, un'area di sosta attrezzata per i camper perché in realtà non ne abbiamo nemmeno una vera proprio, come si dovrebbe fare. E sappiamo, insomma, che siccome ci vengono a trovare questo nuovo modo e noi, chiaramente, ce n'è prevista una torrete di fronte al mare, il Ponte Sasso di fronte al mare, altre le possiamo fare in zona del cimitero storico, in terreni comunali, così non infastidiscono gli esercenti proprio sulla spiaggia, però vanno attrezzate sicuramente meglio. Poi abbiamo la ricchezza delle piste ciclabili nostre che è integrata, per esempio, sul grande progetto che facciamo con Mondolfo e Senigallia, continuare fino a sud la ciclabile Pesaro-Fano, insieme alla Zengarini, che è molto appetibile dal cicloturismo, ci darà delle chance sempre più interessanti. Ecco, alla luce di tutti questi dati, quali sono le considerazioni finali? E come si inserisce tutto questo in un piano strategico? Io credo che questi incontri, come dicevamo, non devono essere dei vernissaggi, di propaganda del politico di turno che si fa bello con degli esperti, sono stati utili, penso che sia stato compreso anche degli operatori, riceviamo dei questionari di proposte, dovremo fare una sintesi appunto. Io credo che già alcune cose, per esempio, la promozione, come si fa a promozione? È una scienza, non bisogna più improvvisare. Le raccomandazioni sono non improvvisate, con la buona volontà, per carità agli slanci, seguite un meccanismo istituito all'interno del Comune, al di là degli esperti, che noi possiamo contattare, dobbiamo contattare, però loro stessi ci hanno detto serve una task force interna al Comune che quotidianamente segue la promozione, segue le iniziative, segue i processi di accoglienza, quindi rafforzare un po' le strutture, ma già in parte l'abbiamo fatto, collegarsi, noi ci stiamo collegando con Social Media Team della Regione Marche, che è la regione più social d'Italia, con esperti, perché, bene, mettiamo dei contenuti, ma vanno ancorati a motori di ricerca validi. Questo, sulle infrastrutture, appunto, c'è stato un bel punto, pubblicizziamo anche infrastrutture che abbiamo solo noi, ultimamente abbiamo parlato anche di questa straordinaria pista per gli skateboard che abbiamo a Fano, si aprono prospettive per il paracadutismo, cioè abbiamo tante cose che vanno raccontate meglio, in modo più incisivo. Bene, allora, grazie all'assessore alla cultura e al turismo del Comune di Fano, Stefano Marcheggiani, allora, prima di salutarci, vi ricordo che la prima occasione per condividere idee e progetti è quella dell'Host Foro Urbano, in programma, come dicevo, sabato 4 marzo, dalle 9 alle 13, nella Chiesa di Sant'Arcangelo, e poi a seguire alla Mediateca Montanari. Per partecipare è necessario iscriversi entro il 28 di febbraio all'indirizzo internet orizzontefano.it oppure all'ufficio relazioni con il pubblico che troverete in piazza 20 settembre a Fano. Materiali, documenti e slide con l'analisi dell'Università di Urbino, invece, sono consultabili sul sito, appunto, sempre di orizzontefano.it. Poi c'è anche una pagina Facebook che potete vedere sulla rete. È tutto, grazie per averci seguito. Buona serata.